Allora, che dire, Cagliari-Bologna, vittoria del Cagliari pesantissima in costa salvezza, in ottica salvezza, il Cagliari finalmente affronta un avversario stanco con molti minuti nelle gambe, 120 in settimana, Coppa Italia ha fatto supplementari. Ne ha approfittato, in più con le assenze, Zirk Zell mancava, poi mancava Silent Makers, poi chi mancava, non mi ricordo neanche, c'era Urbanski, al posto di Silent Makers, sulla fascia sinistra, poi c'era Ursulini, c'era Van Idol, come cazzo si chiama, non me lo ricordo, Comunque, aia, che si può dire che Cagliari è una vittoria importantissima per la classifica, si stacca dalla zona retrocessione e mette nel mirino Frosinone, Lecce, e un'altra squadra, Frosinone e Lecce, anche il Genoa, almeno 4 dal Genoa, meno 3 dal Lecce, meno 1 dal Frosinone e dal Sassuolo, il Sassuolo reagisce nel mirino, va bene, però il Frosinone, il Cagliari era a meno 10 a un certo punto, dal Frosinone tipo, ma a meno 1, il Frosinone deve giocare, vediamo, e poi c'è, deve giocare il Frosinone domani con l'Atalanta, se perde il Cagliari va a meno 1, si gioca lo scontro di 10 settimana prossima, con l'opportunità di sorpassarlo, passando da meno 10 tipo, poi altra cosa, c'è Cagliari, Mare, Augiello, si è fatto saltare da Orsolini, svegliate volte, parte anche nel gol, in Genoa, Augiello, Orsolini avanza, Augiello cade come una pera cotta, e Orsolini va e fa un gran gol, va detto, c'è, in tocco sotto, fa un gran gol, però oltre a quello nel Cagliari ha giocato benissimo Dorsena, Scuffetti è uscito un po' a cazzo sui gol, però a parte quello non ha corso grandissimi pericoli, Scuffetti, c'è stato poi molto bene, Dorsena, Wittiesca, i gol di Wittiesca, c'è stato, è stato, è stato, meglio, ha avuto gol di Calafiori, però Wittiesca ci mette, fa un grande stop, la mette in mezzo, Calafiori devia, Nandes, partitone, tutto sacrificio, ma anche qualità, poi, come si chiama, Zappa, nello stesso discreto, sulla faccia sinistra ha ballato il Calafiori, sulla faccia di Orsolini, sulla faccia destra un po' meglio, centrocampo, anche i corridori, ma con buone sulle mani, non mi sono dispiaciuti, e, così come, come si chiama, Prati, ha dato qualità, davanti Pettania, ovviamente un partitone, gol, fa gol, gol, stavo giocando male la prima mezz'ora, annullato da Calafiori, poi, poi, sta in cattedra a Pettania, fa, primo, lancio lungo dalla difesa, la palla salta tutto il centrocampo del Bologna, i gol del pareggio dell'1-1, 5 minuti dopo il gol di Calafiori, è stato bravo a trovare il gol, 5-6 minuti dopo quello del Bologna, è stato bravo a trovare il gol di Calafiori, perché ha trovato il gol quasi subito, e trovando il gol quasi subito, è riuscito a mettere la partita subito sui binari giusti, c'è stato il gol, l'angio lungo, Pettania salta Calafiori, cioè Calafiori perde Pettania, Pettania si allarga, salta Skorupski, la mette in porta, da una posizione anche defilata, non è nemmeno così facile, cioè, fare il gol, cioè, gran gol di Pettania che poi lotta, prende botte, prende falli, allunga la squadra, cioè, fa sponde, cioè, un partitone di Pettania, a parte i primi 30 minuti che non mi è piaciuto, dal trentesimo in poi un partitone, veramente decisivo Pettania è stato, finalmente Pettania che fa, che si rende utile per la squadra in maniera decisiva, poi, bene, Viola, cioè, Viola anche, ha sfidato il gol dal centrocampo, poco dopo il centrocampo, da 40 metri, 45 metri, dopo pochi minuti, tiro pallonetto, poco sopra la traversa, una vittoria meritata, assolutamente, Cagliari fortunato nel troppo avversario, che, che era stanco e con indisponibile, perché Zirk Zee è una cosa, Van Adenk, qualcosa si chiama, è un'altra, cioè, un conte, sai me, che sei un conte Urbanski, poi non mi ricordo neanche chi c'era, il terzino, al posto di Lico Giannis, c'era un terzino, Christensen si chiamava, non mi ricordo il nome, che, 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 che dire, vittoria vitale, adesso bisogna continuare così, la prossima partita è col Frosinone, bisogna cercare di vincere col Frosinone, anche in trasferta non sarà facile, perché quelli, comunque, sono un po' in crisi, però giocano un bel calcio, cioè, giocatori come, come, su Le, Caio George, eh, che sono in forma, anche che, di la panchina, cioè, poi, non mi ricordo neanche la formazione, a memoria, a Gelli, che gioca, a marea di ruoli, cioè, terzino, difensore, centrocampista, ehm, una squadra, comunque, messa, ha messo abbastanza, beh, cioè, come giocatori, non è, non è fortissima, però, di Francesco, gli dà la filosofia di gioco, e non sarà facile andare a vincere a Frosinone, però, ehm, ehm, è una partita, bisogna cercare di vincere a Frosinone, ehm, che dire, poi, non lo so, non lo so, bisogna continuare, ehm, così, cercare di, di portare a casa i più punti possibili, si sono viste tutte le caratteristiche, di Ranieri, quelle che chiede Ranieri, cioè, la Salve, passa anche da queste partite, ehm, ehm, quello che aveva Ranieri, la garra, la squadra Gagliarda, Coriacea, Coriacea, ehm, ehm, e poi, la, la, la fase, anche difensiva, a parte, le cazzate, un po' di augello, la squadra ha retto bene in difesa, è attaccato, con qualità, il centrocampo ha fatto il suo, ha fatto legna, ha fatto anche, anche in postazione, cioè, quindi, ma soprattutto la garra, e la voglia di non mollare mai, le caratteristiche principali di Ranieri, si sono viste, e saranno vitali per la salvezza.